Con noi questa serata così bella in una location come Villa Aurelia, insomma, cosa ci dici? Che è molto bello essere qua, sono molto molto emozionata di essere qua, è bellissima questa serata. Invece ai fan, dove ti vedremo prossimamente? Qualche progetto in uscita? No, perché stai iniziando, sto iniziando a lavorare, quindi uscirà penso nel 2025. Sempre internazionale, perché ormai sappiamo che hai spiccato il volo. No, no, italiano, italiano, italianissimo. Grazie. No, 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 così perfetta.